Ancora ciclismo, nel prossimo fine settimana Fossa Cesia si prepara a ricordare Alessandro Fantini, l'indimenticato e compianto campione di ciclismo internazionale di cui quest'anno ricorrono nei 60 anni dalla morte. Le sue spoglie infatti torneranno da Brescia nella sua Fossa Cesia, verranno tumulate sabato 4 settembre nella Cappella di Famiglia. State vedendo le immagini della conferenza stampa di questa mattina in cui è stata presentata la manifestazione. Fantini, nato a Fossa Cesia il 1 gennaio del 32 e tragicamente scomparso a Treveri in Germania il 5 maggio del 1961 a seguito di una volata nel Gran Premio di Germania, Sandrino, così come era affettuosamente chiamato da tutti, sarà ricordato grazie ad una serie di iniziative organizzate dalla società ciclistica a lui dedicata. Il programma della Due Giorni, sabato 4 settembre alle 10 presso il Teatro Comunale di Fossa Cesia, convegno dal titolo Pedalare in Sicurezza, presente tra gli altri Marco Scarponi, presidente della Fondazione Michele Scarponi. Alle 17 ci sarà l'accoglienza delle spoglie di Fantini e la tumulazione presso la Cappella di Famiglia. Alle 21 presso il Parco dei Priori a San Giovanni in Venere, la proiezione del docufilm Alessandro Fantini, storia di un campione sfortunato di Marco Romani. A seguire, intorno alle 22, rappresentazione teatrale, il sorriso del ciclista, lavoro scritto e interpretato da Nicola Stante. Domenica 5 settembre, infine alle 10, a Fossa Cesia, la partenza della sessantesima edizione del Gran Premio Fantini, che vedrà la partecipazione di tanti giovanissimi nella categoria allievi provenienti da tutta Italia.